Buongiorno signore Bene Peter, immagino che se stai guardando la tv hai già svolto tutti i miei compiti, giusto? Sì, certo, ho spaventato il postino, ho minacciato il gatto di Kogmaier e ho anche fatto il bagno al posto tuo Adesso mi giro a prendere lo shampoo, tu non uscire dalla vasca Ha addentrato Rupert, mollalo, mollalo, molla Ora devi andarmi a comprare un regalo per il mio amico Jeff, gli piacciono i Packers e fare surf Quando è troppo è troppo Peter, il cane non può comandare in casa nostra Innanzitutto domani lo iscrivo a una scuola di obbedienza, così potremo riavere il controllo su di lui Sembra... Fa male, hai ragione, è silenzioso e terribile come The Artist Guardo molta tv e i film e visto che me ne intendo sarò il tuo peggiore incubo Adesso giù a quattro zampe come tutti gli altri Conosco molti modi per piegare le tue resistenze e credo proprio che inizierò facendoti assaggiare la famosa sedia Cara, hai sentito anche tu un cane gridare? Sì, l'ho sentito tesoro La nostra villetta estiva è vicina alla scuola per cani Ciao Brian, bentornato, dai, vieni dentro Che cosa? Dentro? Ne è davvero sicuro? Certo, ma cosa pensi? Che ti lasci in giardino? Su, vieni dentro Signore, anche se dovessi metterci tutta la vita, giuro che la ripagherò Chi è questo micio? Oh, no, 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 io non sono un gatto, io sono un cane, sono il tuo animale e sono felicissimo di essere qui Brian, che cosa ti hanno fatto in quella scuola? Tu sembri così sottomesso Come se qualcuno lo avesse picchiato con una frusta Io trovo che queste parole rendano perfettamente l'immagine, bravo padrone Padrone? Ed ecco una sorprendentemente veloce erezione per Stewy Bene, ecco fatto, ora è molto elegante, signore Grazie, Brian, adoro questo nuovo io, in quella scuola di obbedienza ti hanno insegnato ad obbedire Quindi è per questo che si chiama così? Ho il permesso di darmi un rapidissimo morso sulla coda, signore? Concesso Hai messo il papillon? È per un'occasione speciale? No, nessuna occasione, voglio solo far incazzare qualcuno Cosa diavolo vorrebbe dire, quello? Credi di essere migliore di noi? Non penso che te lo sia allacciato da solo Sembra che quella scuola di obbedienza abbia fatto miracoli con Brian Ah, sì, fantastica, adesso lui fa tutto quello che gli dico Forse dovrei mandarci Bonnie Oh mio Dio Forza, ora dite qualcosa No, devi renderti conto di quello che hai detto Brian, lo sai, lo sai cosa facciamo adesso ora io e te? Andiamo a fare pipì sul letto di Meg, è sempre una cosa divertente La pipì in un letto? Io non potrei mai farlo La pipì, la pipì in casa la fanno solo i cani cattivi, quella non è una cosa da bravi cani Aspetta, cosa, cosa diavolo stai dicendo? Scusi se parlo quando non è il mio turno, signore, ma lei mi ha mandato in quella scuola perché io cambiassi Perché? Quello era il tuo turno, sai, prima ho parlato io e ora parli tu Sarà meglio che lei vada a letto Oh ma dai Brian, è ancora presto, ora andiamo a tirare un po' di patate contro casa di Cleveland Lei va davanti, io devo preparare il waffle che lei mi ha chiesto urlando in macchina Ma cosa diavolo gli è successo? Una volta eravamo così simili e adesso sembriamo così diversi Lois, hai notato che da quando Brian è tornato dalla scuola di obbedienza qui le cose sono cambiate? Spiegati meglio Beh, lui ora mi permette di dargli ordini e non vuole più divertirsi insieme a me come faceva prima Di Brian la cosa che ho sempre amato e che non era solo un animale domestico Lui era un amico e... e a me manca quell'amico Penso che noi dovremmo accettare il fatto che lui adesso sia così, non dimenticare che ti ha dato un morso E se avesse morso Stewie? E' il morso che mi hai dato tu, stronza! Aspetta un minuto, tu hai ragione Brian mi ha morso Adesso so quello che devo fare Scusa, era troppo scurrile? E' che me l'hai servita così bene? Mi dispiace Brian, ma lo sto facendo in nome della nostra amicizia Ah, porca puttana, Peter, che fai? Oh no, oh mio Dio, oh mio Dio, le ho dato un morso Mi dispiace tanto, signore No, 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 non è niente, non è niente, hai fatto bene, Brian E questa è la risposta più giusta se qualcuno ti si avvicina al sedere Senti, noi abbiamo sbagliato a cercare di cambiarti Io rivolgo il Brian che conoscevo Peter, anch'io voglio che le cose tornino come prima Ed è quello che voglio anch'io Ascolta, mi dispiace tanto di averti morso Oh, lascia stare, fa niente Sono felice di aver ritrovato il mio vecchio amico Bene, e adesso io vado di sopra a fare pipì nel letto di Meg No, noi andiamo a fare pipì nel letto di Meg Sì, così mi piace Che succede? Non sapevo se potesse fare roba con le dita in pubblico